Il numero di positivi sale ancora e ora nel contesto generale c'è una preoccupazione in più, ovvero la variante del virus riscontrata massicciamente nel Regno Unito. La provincia di Belluno supera i 5.600 positivi con la pressione ospedaliera ancora elevata. Oltre 120 persone sono ricoverate in condizioni non critiche, mentre una decina di pazienti in terapia intensiva affronta una lotta più dura. Nelle strutture di comunità una quarantina di positivi. A livello regionale intanto scatta un'ordinanza che regola il trattamento dei pazienti in arrivo dal Regno Unito, dato che proprio in quella parte d'Europa impazza, a quanto pare già da settembre, una variante fino al 70% più contagiosa del normale coronavirus. Le disposizioni firmate da Zaya prevedono una sequenza ben precisa con due linee d'azione. Una riguarda chi ha soggiornato o transitato per il Regno Unito nei 14 giorni precedenti al suo arrivo in Veneto. In questo caso il viaggiatore viene sottoposto obbligatoriamente al tampone in aeroporto o negli appositi punti predisposti dalle aziende sanitarie in attuazione dell'ordinanza del Ministero della Salute. In caso di esito positivo del test, la struttura che accerta la positività richiede la sequenziazione del virus al competente laboratorio. La seconda linea prevede un accertamento su chi invece era nel Regno Unito fino a un mese fa. Le aziende sanitarie verificano se ci sono stati casi riferibili a quell'ambito territoriale nelle ultime quattro settimane e parallelamente i positivi provenienti da lì devono provvedere a segnalarlo. A quel punto i campioni di test positivi vengono utilizzati per la sequenziazione. Il dubbio, tutto da verificare con metodo scientifico e analisi accurate, è che in Veneto questa variante circolasse già da un po'. Anche per questo si chiede anche alla collaborazione dei viaggiatori risultati positivi nelle ultime settimane. L'invito, come già detto, è quello di segnalarlo all'Ulss competente.